Quest'oggi con la firma del verbale di consegna da parte di GTT nei confronti del Comune di Caselle si è finalmente concluso l'iter molto lungo e burocratico e amministrativo per arrivare alla gestione diretta da parte dell'amministrazione di Caselle dell'ex stazione della linea ferroviaria GTT Torino-Ceres. Un percorso molto lungo che ormai tocca quasi 20 anni, fatto di una serie di incontri molto complessi che hanno riguardato numerosi enti, in modo particolare la regione Piemonte e GTT stessa. Siamo arrivati appunto alla fine del 2018 e alla sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Comune di Caselle e il CTT e questa mattina appunto col verbale di consegna che ci permette di prendere in gestione l'edificio. Adesso si apre una nuova sfida per la nostra comunità, una sfida da molto tempo attesa, cioè quella di riqualificare questo edificio, questa porzione della nostra città per riconsegnarle ai cittadini e dare ad essa una seconda vita. Apriremo sicuramente nelle prossime settimane una raccolta di idee da parte appunto dei cittadini, associazioni, comitati. Cercheremo di mettere tutto sul tavolo in modo da ragionarne insieme, trovare la soluzione più ideale, più utile per la nostra comunità, in modo che nel corso del 2019 si possano espletare tutte queste procedure propedeutiche che ci prepareranno poi alla ristrutturazione dell'edificio che riguarderà il lavoro poi del 2020, del prossimo anno. Ricordo che la convenzione già sottoscritta con GTT prevede una concessione, un uso gratuito per la città di Caselle per 25 anni, rinnovabili di altri 25, sempre appunto o con GTT o con Regione Piemonte, a seconda della proprietà, se rimarrà in capo a GTT o alla Regione Piemonte stessa. L'impegno economico per la riqualificazione dell'edificio si aggira intorno ai 600.000 euro, siamo però convinti che siano un investimento per il futuro della nostra città, per dotare della nostra città di una nuova area riqualificata, efficiente e che possa fornire dei nuovi servizi a tutti i cittadini. Credo che quest'oggi e questo 28 di febbraio rappresenti una data particolarmente importante per la nostra comunità perché finalmente, e dopo tanto e tanto disquisire e discutere su questo tema, la nostra comunità può riappropriarsi della gestione di un patrimonio che è di tutti e ritorna ad essere di tutti. Grazie. 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 Grazie.